Aiutiamo i terremotati, allontaniamo gli immigrati. Dopo il messaggio lanciato da Forza Nuova attraverso una scritta timbrata sulla cantonata di fronte alla caserma dei vigili del fuoco, stamani è apparsa di fronte al convento di San Generoso a via Francesco Tedesco, già sede della Polizia Municipale destinato ad ospitare 40 profughi, come annunciato dal Comune. Un altro slogan contro gli immigrati. Sul caso interviene Don Viteriano della Sala. Il parroco lancia un monito anche alle istituzioni, alla loro assenza sul fronte dell'emergenza. Alimento è una pericolosa guerra tra poveri. Questa è la parte triste della vicenda, perché noi per la Costituzione italiana abbiamo il dovere di ospitare i richiedenti asilo, ma per un fatto di umanità. Ovviamente bisognerebbe organizzare meglio il tutto, non delegarlo solo alla Prefettura, ma coinvolgere le amministrazioni locali che sono più impegnate sui territori, ne sanno i problemi, sanno trattare con le persone. Altrimenti si dà spazio a chi vuole semplicemente scacciare gli immigrati, vedendoli come dei nemici e non come una risorsa, una possibile risorsa anche per il futuro del nostro paese e dei nostri territori. Viteriano si riferisce in questo monito soprattutto a degli striscioni, a delle scritte che abbiamo visto ultimamente in città davanti all'esterno dei vigili del fuoco, davanti al Convento Saggene Rosso, due strutture che dovrebbero ospitare i profughi. Sì, quella è la punta di un iceberg, quegli striscioni. Voglio dire, è semplice, è troppo semplice speculare sui problemi, sulle disgrazie, è quello che fanno gruppi, partiti, associazioni quando non hanno idee da proporre. È facile attaccare senza proporre l'alternativa. I profughi arrivano in Italia ed è inutile, secondo me, cercare di arginarli. Si può non subire questa specie di invasione ma governarla, gestirla. Ovviamente ci vogliono intelligenze, ci vuole collaborazione, i soldi da quello che capisco ci sono. Ecco, certo, proporre delle soluzioni alla Trump, cioè si fa un muro, si spara sui gommoni, tutte le proposte che abbiamo già sentito, non serve a risolvere il problema. Il problema va affrontato, va affrontato con intelligenza e sicuramente vanno evitate appunto la... Lei lo possa, si riferisce con i terremotati? Sì, vanno evitati questi scontri tra i poveri, come si dice, questa guerra tra poveri.